bentornati ragazzi sul canale di giochini x gen siamo qui oggi con un nuovo episodio di pest 2016 ma ho deciso di non portarvi il my club ma oggi affronteremo questa coppa qui online ossia winner take all takes all cioè tutto il vincitore quindi ragazzi come c'è scritto una competizione è deciso da uno scontro diretto chi vince si aggiudica la competizione gli avversari non saranno limitati ai partecipanti alla competizione quindi ragazzi oggi voglio provare a portarvi questa partita vediamo come va ok ragazzi eccoci giunti alla partita online il nostro avversario come vedete c'è la lazio ha una squadra ho visto più o meno italiana vediamo se riusciamo a vincere questa partita secca grande numero subito di baggio dentro levandoschi dentro caicedo caicedo tiro parata subito del nostro avversario del portiere attenzione baggio fermato e riparte contro il vedere ragazzi anche lui ha baggio quindi siamo baggio contro baggio dentro caicedo caicedo no sbagliato dove potevo tirare dentro ancora baggio al tiro no toliti levandoschi leva attenzione che il nostro avversario avanza corobi baggio no 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 1 a 0 per lui alla prima operazione che ha fatto ragazzi è passato in vantaggio con giuseppe rossi caicedo grande caicedo dentro per levandoschi mi arriva con le golle pareggio 1 pari robert levandoschi quasi subito pareggiamo ragazzi ce la stavamo meritando il pareggio no perché perché terry ma che cazzo fai ma perché ragazzi alle volte rinuncio a capire i tasti di pezzi io li rinuncio a capire non non so aveva preso palle per da solo me l'ha tolta così non ho fatto nulla ancora robert levandoschi dentro palla dentro cross di prima caicedo non riesce di pochissimo attenzione che ha sbagliato blind 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 tiro pareggio 2 pari e riportiamo in pareggio la partita ragazzi piena di gol su raro 2 pari meritatissimo attenzione al su roberto baggio dai terry ma che cazzo fai ragazzi non ci credo ma terry si è drogato attenzione caicedo dentro ancora robert levandoschi levandoschi al tiro deviato gol 3 pari 3 pari subito pareggio subito ragazzi due gol che ha fatto il nostro avversario c'era sul gruppone john terry che secondo me si è drogato prima della partita non so che cosa li prende sono ancora guardate è parata reti moleste terry interventi che fa non è dentro ragazzi ma che perché guardate guardate si allungano palla da soli sembra che lo voglia far segnare a tutti i costi su raro bravo su raro per caicedo in velocità caicedo finito il primo tempo 3 pari vediamo subito come va il secondo tempo attenzione baggio contro baggio e vince il mio di baggio ovviamente il suo roberto baggio eccolo qua no ce l'ha fatta ragazzi è stato bravo è stato bravo il suo roberto baggio questa volta ha segnato è stato molto bravo 4 a 3 per il nostro avversario dobbiamo nuovamente recuperare subito dentro lewandoschi 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 per il mio di roberto baggio che tira pareggio del mio roberto baggio che non vuole essere da meno del suo roberto baggio quattro pari ragazzi bellissima partita hanno segnato il numero di baggio incredibile no ma bravo le ali bravissimo no ragazzi no 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 bravissimo kurzawa bell'intervento caicedo dentro ancora vai per lewandoschi in mezzo anticipato roberto baggio dentro nulla da fare ancora roberto baggio dentro ancora prova il tiro roberto baggio fuori di pochissimo carmona dentro vai che ha visto caicedo caicedo troppo lunga di pochissimo per caicedo dentro per caicedo ancora lunga la palla dai caicedo ancora lewandoschi tiro deviazione gol deviazione gol 5 a 4 passa il vantaggio 5 a 4 dobbiamo cercare di tenere il risultato ma con 4 d'ora nooo è parata di le ali si il drogato di terry perchè lo chiamerò così ha chiuso ancora male no 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 buco centrale ragazzi non ci posso credere ragazzi nessuno che segue l'attaccante c'è solo un attaccante ma guardate ma ma stiamo scherzando spero ma stiamo scherzando dentro palla per caicedo caicedo ce la fa caicedo filtra gol 6 a 5 caicedo grandissimo gol ripassa il vantaggio l'ottantanovesimo dobbiamo tenere a tutti i costi questo risultato attenzione l'avversario avanza questa volta terry ha fatto un buon intervento bravo anche godin eh vediamo punizione espulsione per rossi non so ragazzi cosa abbiamo fatto vediamo uh bruttissimo fallo su godin l'ho anche attraversato è proprio il caso di dirlo eh finisce ragazzi finisce risultato tennistico quindi vittoria per 6 a 5 ma comunque ho vinto quello è l'importante ragazzi ok ragazzi se il video vi è piaciuto mi raccomando a lasciare ovviamente subito un bel pollicione in su commentate condividete fatemi sapere anche se voi avete partecipato se siete vinto la coppa se vi piace se ogni tanto vi porto anche diciamo partite di coppe online oltre che al my club e come vi avevo già detto prossimamente arriverà anche le arriveranno anche le divisione online ok ragazzi per questo video è tutto qui da un giorno nero 83 ho finito ho concluso ci vediamo al prossimo video bella